Uomini e profeti. Letture. Una buona giornata da Gabriella Caramore. Eccoci al terzo racconto di questi che sono dei veri e propri azzardi spirituali, così li abbiamo voluti chiamare, del Giappone antico, che ci stanno mostrando, anche grazie alla chiarezza, all'acutezza del nostro ospite che è Massimo Rabeli, come quello che a noi pare un pensiero così indistinto, semplicemente perché è lontano, il pensiero orientale, buddista, sia in realtà profondamente diversificato al suo interno, ci siano figure addirittura divergenti. Abbiamo incontrato Ku Kai, un maestro dell'ottavo secolo, che persegue una via di conoscenza, una sapienza iniziatica. Poi Shin Ran, che rifiuta invece la sapienza per avere accesso alla fede che salva i peccatori, i piccoli, e che evidenzia una corporeità che non ha nulla di negativo, l'abbiamo chiamato un lutero antelitteram. La prossima volta il grande Dogen, il maestro della meditazione e del silenzio, grande poeta della conoscenza. Questa volta Nichiren Daishonin, celebre in tutto il mondo, perché a lui si ispirano gli adepti della Soka Gakai, ma vedremo oggi qual è poi il vero carattere di Nichiren. Azzardi spirituali, quattro volti del Giappone antico, con Massimo Raveri. Terza puntata, Nichiren, in un'epoca buia per annunciare il Dharma. Allora, saluto subito il professor Raveri, che insegna religioni e filosofie dell'Asia orientale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno, professore Raveri. Buongiorno. Buongiorno. Allora, queste bellissime puntate che lei ci sta facendo. Tra l'altro, la volta scorsa ho dimenticato un po' di chiederle a proposito di Shinran una cosa ovvia, e cioè se le consonanze con il cristianesimo di Shinran, che abbiamo messo in evidenza, vengono recepite anche oggi dalle comunità cristiane. Cioè, ci sono contatti tra le scuole? Sì, ci sono contatti. Direi che la Jodo Shinshu, che è la tradizione legata a Shinran, è molto attenta al dialogo, soprattutto con i cristiani. Si misurano su una ridiscussione che ispira entrambe le parti sul concetto di fede, che è intesa in due maniere diverse, perché sono legate a due tradizioni spirituali diverse, ma nel confronto loro trovano ispirazione da questa alterità. Sono anche, accettano anche la sfida sociale dei cristiani, intendendo la carità, la misericordia, la compassione buddista, e rivedendola in chiave di un impegno più diretto con gli ultimi. E questi sono i due punti principali del dialogo che avviene oggi fra i teologi del Jodo Shinshu e il mondo cristiano. Ecco, tra l'altro, fra le tante lettere che abbiamo ricevuto, c'è una di Enrico, che ricorda ancora il ciclo che abbiamo fatto alcuni anni fa con Maria De Giorgi su Shinran, e gli viene in mente questa cosa, che a chi obiettava al maestro Shinran che la salvezza per grazia è una spinta alla trasgressione, lui rispondeva che non si assume un veleno perché si è consapevoli che esiste un antidoto, che è una cosa molto acuta. Certo, infatti, infatti. Senta, veniamo allora al nostro Nichiren, Il quale, appunto, dice, come poi sentiremo, che vive in un'epoca buia. Qual è l'epoca buia nella quale Nichiren vive? Lui vive nel XIII secolo, dal 1222 al 1282, siamo quindi sulla stessa epoca di Shinran, e come Shinran, lui pensa che è giunta l'epoca della degenerazione della legge. Perché? Cosa accadeva nel Giappone nel 1222? Ma era un disastro economico e politico, c'era una fase di grosso cambiamento, c'era la corte imperiale che non riusciva a controllare il Giappone, si era formata una nuova elite militare, i Bushi, che governava di fatto da Kamakura, ma la situazione del paese era veramente difficile, tanto più che Nichiren è povero, nasce da una famiglia molto, molto povera. Lui sì che conosce la sofferenza degli ultimi. Gli altri grandi maestri sono leggermente di famiglie nobili, e lui sentirà sempre questa sua vicinanza con i diseredati. E povero diseredato però studia. Sì, studia. Entra in un monastero ed è uno studioso molto bravo, quando anche in esilio non avrà testi, le sue citazioni sono perfette. Questo vuol dire che lui scrive anche in esilio, ma non ha i testi sotto mano. Quindi la sua preparazione è di primo ordine. Ed è inquieto, gira per vari tempi, va a Kyoto, al Tendai, studia anche dottrina esoterica, poi a un certo punto abbandona tutto perché ha un incontro fulminante con il Sutra del Lotto, che era il testo adottato dal Tendai e ormai, non dico dimenticato, ma coperto dalla tradizione esoterica. E lui invece lo riscopre come una riscoperta di un primigenio buddismo. E lui sì, si dedica totalmente al messaggio che il Sutra del Lotto dà. Dunque, vediamolo in primo luogo, ricordiamo che cos'è il Sutra del Lotto e poi vedremo che cosa dice, lo sconteremo e poi vedremo quale interpretazione che ne dà. Guardi, il Sutra del Lotto è uno dei più importanti testi della corrente mahayana del buddismo. È un testo grande, è un testo letto, è un testo sempre riinterpretato. non è un testo facile, è un testo esoterico, quindi non è criptico, non è per i pochi eletti, però appresenta una struttura incoerente. Ha una prima lettura, il lettore non segue, non riesce a capire, ma fu un grande maestro cinese a saperlo vedere più a fondo, a saperlo far parlare e ne trae quelli che saranno i concetti portanti di questo Sutra. Ecco, che sono i concetti portanti? Che sono il primo e contenuto in un grande capitolo fondamentale, il secondo, Hoven, cioè dei mezzi, degli spedienti, e cioè che la verità assoluta è compassionevole, che è una bellissima idea, che è comune a tutte le religioni, che cioè l'assoluto ci cerca, l'assoluto cerca gli uomini, l'assoluto si abbassa, l'assoluto sa di essere irraggiungibile. E quindi il Boddha Shakyamuni nel Sutra dell'Oto annuncia che la verità scende fra gli uomini e si adatta come spedienti alle loro diverse menti. Una sorta di kenosi, si direbbe. Sì, diverse culture, l'uomo è in diverse epoche e quindi la verità gli viene proposta, gli viene data, gli viene manifestata in diversi linguaggi, con diverse metafore, con diverse visioni. ma al fondo di tutte queste diversità di fede ce n'è una, la verità è al fondo, solo una, che è la via del Bodhisattva. Ecco, però questo essere la verità una, ma mostrarsi come diverse verità, cioè è come dire Dio è uno, ma si rivela in maniera diversa nelle diverse culture, nei diversi esseri umani, lo diremmo oggi, diciamo. Sì, è uno strumento ermeneutico di estrema disponibilità verso la diversità di verità, verso la pluralità di verità, perché anche se il buddismo non parla di Dio, ma parla di verità assoluta, della illuminazione che si emana, però che si adatta, quindi una fede diversa è frutto, se creduta fino in fondo, sinceramente, è il livello di verità per quella persona in quell'epoca, quindi è vera. Naturalmente per altre persone in altre culture sarà una diversa verità, ma tutte procedono su un cammino di illuminazione adatto a seconda dei tempi. Ma Nichiren arriva a esprimere questa sorta di religione universale? Nichiren è preso da questo senso di verità unica e lo capisco perché è... Lo capisce. Se mi scusi. Sì, sì, no, no, è bello. Lo sento. Vorrei accentuarne la parte appassionata. Era un'epoca di grande disorientamento culturale, spirituale, quindi c'è il fascino, ne parleremo ancora, di questa verità che finalmente è chiara, è unica, indiscutibile. Solo che lui travisa volutamente per il suo carattere, per la sua interpretazione, per la sua passionalità. Quell'unico che è, è un processo così di fondo che il Suta del Loto annuncia con una grande apertura alla diversità, per Nichiren diventa l'esclusione dell'altro. È unico, ma ha esclusione degli altri. Tutte le altre dottrine sono false per lui. Che è un travolgere radicalmente... Allora, come dire, contraddice quello che avevamo intuito prima. Assolutamente. Per quello che gli si rivolteranno conto. Perché quel termine unico che era un termine che assimilava e che armonizzava le diversità, queste diversità le elimina. Senta, leggiamo allora questo Sutra del Loto e poi vediamo appunto dal capitolo secondo come lei ci suggeriva e poi ne vedremo alcuni passaggi. Senta, leggiamo allora Ascolta con attenzione, Shariputra. La verità che il Buddha ha conseguito egli la predica per il bene di tutti gli esseri viventi attraverso il potere di innumerevoli espedienti. I pensieri presenti nella mente degli esseri viventi, i diversi sentieri spirituali che percorrono, i diversi desideri, le loro nature, le buone e le cattive azioni compiute nelle esistenze precedenti, di tutto ciò il Buddha ha piena conoscenza. Quindi si serve di cause, similitudini e parabole diverse, di discorsi che incarnano il potere degli espedienti per portare tutti alla liberazione. Fino a ora non vi ho mai detto che avreste certamente conseguito la via del Buddha perché il tempo di insegnarlo non era ancora venuto. Ma adesso è il momento giusto. Ora devo insegnare risolutamente l'unico grande veicolo. Esistono figli del Buddha dalla mente pura, consapevoli e di comprensione profonda che sotto la guida di innumerevoli illuminati hanno praticato la via meravigliosa. A questi figli del Buddha io predico. Nelle terre del Buddha delle dieci direzioni esiste solo la verità dell'unica via. Non ce ne sono due, non ce ne sono tre. I Buddha la predicano in modi diversi, impiegando nomi e concetti provvisori per guidare gli esseri viventi e portarli a comprendere la sapienza del Buddha. In tutte le dieci direzioni solo il Buddha non ha paura della verità e diffonde la sua luce sul mondo. Sono onorato da innumerevoli moltitudini e per loro insegno il risveglio alla realtà profonda. Sappi, Shariputra, che all'inizio ho fatto il voto di rendere tutti gli esseri uguali a me, senza distinzione fra noi e quello che ho sperato a lungo ora si è realizzato. Tutti gli esseri viventi hanno raggiunto il risveglio alla verità. tutti sono entrati nella via del Buddha. Massimo Raveri è un testo bellissimo però è vero che può dar luogo delle ambiguità perché appunto questa verità è un'unica via ma ci sono le dieci direzioni quindi dipende da dove si mette l'accento. inizia in legge quel Buddha non ha paura della verità e lui non avrà certamente paura di proclamare la verità solo che per lui è assolutamente una, una sola in modo molto rigido in modo molto decisamente intollerante. Vedremo a che cosa lo ha portato questo ma mi preme sottolineare in questo testo per esempio questo tutti per portare tutti alla liberazione. Sì, ma sono già liberati questo è l'annuncio del Sud gli eventi hanno raggiunto il risveglio della verità tutti sono entrati nella via del Buddha. Questo è il grande annuncio e Nichiren lo sentirà moltissimo perché nel Sud del Lotto Shakyamuni annuncia che lui è una manifestazione terrena di una buddhità più alta perfetta scesa che si è manifestata fra gli uomini in quell'epoca ma una sorta di incarnazione si potrebbe dire e come c'è stato il Buddha Shakyamuni Siddhartha così ci saranno altri Buddha il Buddha del futuro sarà Maitreya quando alla fine della degenerazione del Dharma lui verrà però lui anche nel Sutra annuncia che loro i suoi discepoli sono figli suoi quindi hanno la loro stessa natura questo è sottolineare la parola figli i figli del Buddha non l'ha mai fatto tutti gli esseri uguali a me senza destinazione fra me sono già sono già risvegliati e questo darà a Niciren e a tutti i lettori del Sutra del Loto che la speranza si è già realizzata loro solo semplicemente non lo sanno quindi ed è il Sutra del Loto è un testo scritto peraltro tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo ma la leggenda lo vuole come l'ultimo discorso del Buddha prima di entrare nel Pari Nirvana insieme al Nirvana Sutra e Niciren utilizzerà questo dicendo è l'ultimo messaggio che il Buddha dà prima di morire quindi è il messaggio definitivo siamo tutti salvi ecco ma appunto la salvezza ne parlavamo un'altra volta che cosa significa salvezza ah questo è un altro punto che distingue Niciren la salvezza in questo caso è una salvezza decisamente positiva mentre per Shinran per esempio era una una salvezza in un mondo altro nell'aldilà per Niciren è una salvezza che si esprime in questo mondo perché l'illuminazione che noi riusciamo a raggiungere grazie alla fede nel Sutra dell'Oto non già grazie alla sapienza tra parentesi anche qui non attraverso il sapere no no assolutamente tutti questi grandi maestri rifiutano la sapienza esoterica proprio con un con un distacco con una violenza con un non posso dire disprezzo ma con una lontananza l'unica è una fede bruciante in questo caso nel messaggio del Sutra dell'Oto che ci ha già salvati ma è una salvezza positiva per salvare gli altri per creare una salvezza condivisa nel mondo non in un altro mondo non nella terra pura ecco quando lei dice la fede che cosa traduciamo con la parola fede che cosa intende Niciren Niciren intende un'autoconoscenza l'autoconoscenza della buddhità che già in noi è la luce della verità è vero l'illuminazione allora perché la chiamiamo fede perché anche questo è un abbandono anche questo è un abbandono anche questo è un lasciar cadere tutte le proprie strutture concettuali per abbandonarsi semplicemente alla realtà ultima che è la luce del Buddha ma Niciren la vede come una luce di verità non come la vacuità accentua il senso della potenza della forza del vero che è in noi che si deve diffondere negli altri quindi è questo che lo rende nettamente positivo e su questo messaggio saranno le nuove religioni moderne contemporanee a lavorare perché la natura umana per Niciren è sostanzialmente buona siamo già salvi siamo già Buddha quindi non possiamo essere cattivi solo non lo sappiamo sono le altre false tradizioni che devono essere tolte dalla nostra mente devono essere scrostrate di fatto la sua tecnica di proselitismo è terribile si chiama Shakubuku è violenta è forte è fatta apposta per scioccare deve distruggere le convinzioni degli altri senta tutta la passionalità che c'è in lui per finalmente poterlo portare a sconoscere la sua vera natura che è l'unica verità possibile che lo sa certo profondamente contraddittorio però perché la salvezza era decisamente devo dire intollerante in un paese che aveva che aveva adottato una politica di estrema tolleranza ma in cosa si manifestava questa sua intolleranza ma si manifesta in lui ovviamente tutti i maestri hanno una una visione molto molto personale della della verità ed è logico che dicano che le altre tradizioni sono sono diverse non sono perfette ma nessuno mai aveva detto nel mondo buddista che erano false quindi era veramente un uomo che spaccava il mondo buddista era un monaco dissidente che creava grosso grosso disagio e poi lui alza il tiro e lui si rivolge al governo e questo gli crea grossi problemi perché osa scrivere direttamente ai governanti di Kamakura professandosi lui il profeta del sud del loto l'unico che veramente ha capito e chiede due cose impossibili ma le chiede con un'autorevolezza nuova perché lui aveva anni prima profetizzato che i disastri del mondo avrebbero colpito il Giappone e il Giappone sarebbe stato invaso e adesso infatti viene invaso i mongoli tentano di invadere il Giappone quindi nelle autorità c'è da una parte la sensazione che questo monaco è veramente un monaco del disagio della frattura d'altra parte c'è un rispetto profondo perché questa sua visione profetica si è realizzata quindi c'è anche un timore o non c'è dubbio senta leggiamo allora un altro testo che lei ci ha portato in cui appunto Nichiren racconta se così si può dire il suo conflitto con con il mondo giapponese con il mondo del potere io Nichiren sono l'unico in Giappone ad aver compreso la forza di salvezza del Sutra del Loto perché il Buddha ha fatto sì che nascessi in quest'epoca buia per annunciare il vero eterno Dharma contro gli altri insegnamenti falsi e provvisori sono ormai passati vent'anni da quando ho iniziato a proclamare il mio pensiero giorno dopo giorno mese dopo mese anno dopo anno sono stato perseguitato di recente mi è costata quasi la vita e così è successo a molti dei miei discepoli puniti come se fossero colpevoli di tradire la dottrina del Buddha quando predico apertamente il profondo insegnamento del Sutra del Loto genitori fratelli maestri mi criticano aspramente e le autorità del governo insorgono contro di me ma d'altra parte sono pienamente conscio che se non lo predicassi sarei privo della virtù della compassione ho riflettuto su quale via intraprendere pensando alla luce del Sutra del Loto se rimango in silenzio in questa vita certo sfuggirei a tutti i pericoli e a tutte le offese ma nella prossima vita sprofonderei nel più doloroso degli inferni perché non avrei seguito la via che era stata tracciata per me se continuo a predicare a voce alta con coraggio dovrò sempre misurarmi con i tre ostacoli e i quattro mali preannunciati dal Buddha nel capitolo Hoshi del Sutra del Loto infatti è scritto intenso odio e gelosia circondarono il Buddha durante la sua vita tanto peggio avverrà dopo che lui si sarà estinto e nel capitolo Kanji il Buddha dice ancora essi saranno risentiti e vi disprezzeranno vi odieranno e parleranno male di voi con invidia perché credete in quello che vi insegno e lo proclamate di fronte a tutti eppure so che non c'è altra via da seguire se non questa e io l'ho seguita con una fede totale ecco è una bella confessione questa di Nichiren dolente sofferta però però orgogliosa però orgogliosa perché lui sente che quello che preannunciava il surta del lotto sarete perseguitati a causa del mio messaggio lui lo sta incarnando lui sente proprio nel profondo della sofferenza infatti lo mandano in esilio a Sado che era un inferno ed è poverissimo in situazione difficilissima rischia anche di morire lui sente che questo è il segno che lui è preannunciato lui pensa davvero lì di essere il Bodhisattva Joggyo e quindi ancora ancora è più convinto ancora che queste sofferenze sono la prova che la strada che ha intrapreso è la strada che le era predestinata senta ma più in generale quali erano i rapporti fra appunto il potere dello Stato e le comunità monastiche del Giappone e dell'Asia in generale ma erano poteri molto equilibrati all'inizio quando il buddismo arriva in Cina crea un grosso problema perché la dottrina confuciana era la dottrina etico-politica della convivenza ma non si basava su una decittimazione di carattere religioso era una scienza della politica basata su un concetto che la natura umana è buona e quindi va guidata su delle norme e il garante era l'imperatore ed ecco che arrivano delle comunità alla proposta di una salvezza di comunità non singole una scelta singola che si rifugia in montagna non è un problema non fa storia non fa storia non incide però si trattava di un messaggio che rifiutava il mondo il mondo è un'illusione e creava delle comunità di rinuncianti che però vivevano ai marci nella città e non riconoscevano l'autorità dell'imperatore era la via del Buddha contro la via del sovrano però il messaggio buddista toccava una nuova sensibilità cioè diceva alla cultura cinese dell'epoca e quindi si doveva in ogni caso arrivare a un compromesso e ci arrivarono con una dottrina che la legge del Buddha poteva aiutare la legge del sovrano e il sovrano poteva aiutare la comunità buddista nel senso che cioè il sovrano illuminato il Chakravartin proteggeva il Dharma e lo controllava e lo disciplinava e nominava anche gli abati per garantire una pace nei monasteri cioè l'imperatore si faceva garante che il monaco potesse condurre la sua vita spirituale in serenità e in armonia a sua volta il monaco pregava e accumulava meriti con la sua meditazione per il sovrano e per la comunità in cui viveva la garanzia ulteriore è che il sovrano lasciava tutte le tradizioni spirituali esprimersi salvo che queste non incidessero nell'armonia nell'armonia sociale nell'armonia politica perché non dimentichiamoci che il termine cinese poi giapponese è via è una mia esperienza una mia esperienza spirituale molto personale molto libera basta che non incida non vada a ledere i diritti e la convivenza è l'armonia della comunità sociale e di questo è garante il potere politico Nietzsche non gli chiede qualcosa di impossibile chiede cioè al governo di scegliere una sola verità e di andare contro di distruggere le altre tradizioni spirituali quindi l'imperatore è garante della laicità diciamo si potrebbe dire no è anche garante della spiritualità perché permette perché permette che queste comunità monastiche appunto perché vivano che vivano la loro esperienza religiosa però c'è un controllo senta come mai il messaggio di Nichiren ha avuto poi così fortuna nella modernità tanto che appunto c'è questa non so se la chiamiamo setta o scuola che è la la soka gacchai scuola diciamo scuola che è un po' più educato che si ispira a Nichiren e che è avuto e sta avendo anche una grandissima fortuna sì questa è una domanda molto interessante che ci provoca perché come un autore del 1200 così poi così appassionato e così ostico e anche e anche settario quello possiamo dire sì 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 non c'è dubbio è proprio settario solo alla fine della sua vita così si apre la parentesi cambia è molto bello lui va si rifugia a Minobulo lo liberano dall'esilio un esilio durissimo a Sato e si rifugia in questa montagna e lì forse perché diventa vecchio il suo sogno impallidisce e la sua visione dà un sogno utopistico di creare una società del suo tadellotto diventa un sogno introversionista cioè solo la conversione interiore conta e sarà una conversione interiore quella che cambierà il mondo questo è il messaggio su cui le nuove religioni saranno ispirate e la modernità vede tutti i movimenti di rinnovamento religioso che si ispirano al messaggio buddista tutti scelgono Nichiren la Rishoko Seikai la Reiyukai e appunto la più famosa è la Sokagakkai cosa vuol dire Sokagakkai? vuol dire società per la creazione dei valori e fu fondata nel 1930 da un maestro Makiguchi Tsunesaburo e da un altro dal suo discepolo Toda Toda Josei tra l'altro appunto non so la Sokagakkai in Giappone credo che sia stata fuori legge per un certo periodo all'inizio era troppo perché c'era nel periodo nazionalista c'era lo scendo di Stato e il Toda e Makiguchi rifiutarono di riverire i kami come dei dinastici dei che hanno generato la dinastia imperiale furono incazzerati e Makiguchi morì in prigione ecco però non so per i pochi gli scarsi contatti che abbiamo avuto con la Sokagakkai mi hanno fatto anche un po' una strana impressione nel senso che interrogandoli un po' sul senso di questa loro attività di questa loro devozione veniva poi fuori qualcosa di insomma almeno per le persone che ci hanno parlato di un pochino povero cioè appartengo a questa scuola perché ho migliori risultati scolastici riesco a fare meglio le cose che facevo prima che non sono cose di poco conto però perché mettere in piedi tutta questa ritualità il pronunciamento del nome che adesso sentiremo eccetera rispetto a questi piccoli obiettivi sembrerebbe poco sì però alle volte questa salvezza minima è la prima grossa salvezza difatti i movimenti di rinnovamento religioso parlano delle frange sociali di devianza e di problematica sono quelli che le tradizioni istituzionali non riescono a raggiungere sono quelli che non riescono a trovare delle risposte nelle diciamo religioni tradizionali alle nuove angosce o anche solo a dei problemi spirituali che una condizione economica acquisce in questo caso da Sokakakai che cosa dava almeno in Giappone ha dato un certo messaggio in occidente un altro se vediamo in Giappone molto interessante perché la salvezza che dà è una salvezza innanzitutto culturale e cioè certamente c'è la salvezza in questo mondo eccetera crea comunità molto coese ma vorrei essere chiaro è l'unica tradizione che crede all'interno del buddismo che il testo sia unico che la verità sia unica che il maestro di Ciren sia l'unico vero profeta che la interpretazione che dà sia l'unica ortodossa e che la chiesa debba essere un'unica con lo Stato e che il paese dove di nuovo la luce sorgerà è il Giappone quindi ebbe successo negli anni 30 e soprattutto dopo negli anni 50 e 60 perché veniva a sopperire a una crisi di identità e quando abbiamo una situazione sociale molto complessa dinamica come quella del Giappone dopo guerra in cui c'è una confusione una confusione di culture c'era l'occidentalizzazione la guerra perduta i valori tradizionali questa semplificazione del messaggio diventa la salvezza prima è un messaggio chiaro coerente forte che in realtà di unicità che in realtà è sintomo però di debolezza perché l'unicità non è un pregio l'unicità è un prezzo molto alto perché crea anche una diversità con gli altri che diventano nemici però fu allora necessario senta Raveri prima di venire all'esito di questa sette in occidente ascoltiamo però ancora da una lettera di Nichiren un suo commento alla Sutra del Loto dove troveremo anche la formula nella quale è racchiusa la legge del Dharma nel Sutra del Loto è scritto la sapienza di tutti i Buddha è infinitamente profonda e incommensurabile in che cosa consiste la sapienza di tutti i Buddha è quella che svela il vero aspetto di tutti i fenomeni è la verità che porta tutti gli esseri all'illuminazione essa è rivelata dal Sutra del Loto ma è già dentro ognuno di noi come infatti spiega il Mahashikan il principio della verità più profonda è espresso nell'ultima predicazione del Buddha un aspetto della Buddhità è nella presenza oggettiva del mondo e un altro aspetto della Buddhità è nella conoscenza soggettiva della mente ma nell'illuminazione i due aspetti si rivelano essere una cosa sola questo è di fondamentale importanza significa che i desideri di questo mondo sono illuminazione e che il ciclo delle vite e delle rinascite è il Nirvana stesso nel capitolo Hoven del Sutra del Loto è scritto tutte le forme del mondo sono Buddhità questa verità del Dharma è racchiusa in Namu Mioho Renge Kyo quando uno crede in tona con tutto se stesso Namu Mioho Renge Kyo l'oscurità delle illusioni del mondo diventa la luce della sua liberazione perché anche se è ignorante ma ha fede nel Sutra del Loto la via che percorre è chiara e sicura egli si volge al sacro titolo dell'insegnamento che contiene in sé tutti gli insegnamenti come il fiore di Loto spontaneamente si volge nella direzione del sole allora Massimo Raveri intanto abbiamo sentito questo commento al capitolo che avevamo letto all'inizio prima la conoscenza soggettiva della mente la presenza oggettiva del mondo qui sembrerebbe di nuovo ritornare il movimento dialettico ma c'è una cosa sola che inchioda che anche costituisce il fascino che avrà anche in Occidente il messaggio di Nichiren lei mi chiedeva prima come mai ha successo in Occidente ma io penso per innanzitutto ma intanto scusi in Occidente è arrivato quando poco dopo verso gli anni 70 ecco molto più tardi allora guardi la Tsukagakai è uno dei primi movimenti di rinnovamento religioso buddista che si proietta fuori la Tsukagakai International è fondata negli anni 70 e c'è anche adesso in Europa e in America ed è molto diffusa e quello che quello che dava un senso alle conversioni alla Tsukagakai fu il fatto che aveva una visione di salvezza concreta una divisione di salvezza immediata nel mondo creava dei piccoli gruppi di Zadankai molto coesi che chiedevano una fede esigente davano sicurezza e si rivolgeva i primi combattiti sono delle frange come detto prima di problematicità che trovavano in un gruppo accogliente molto molto esigente molto intollerante molto duro una forza che loro forse non avevano e di cui avevano bisogno tutta proiettata su un immaginario esotico e familiare allo stesso tempo perché c'era l'esotismo della dottrina buddista quindi loro gli adepti erano evidentemente insoddisfatti di come la loro tradizione religiosa non riusciva a cogliere il loro disagio e quindi si rivolgevano a una verità altra una via altra alla ricerca di qualche cosa ma la trovavano in un messaggio che tutto sommato dal punto di vista ermeneutico era familiare era monoteista un solo un solo buddha un solo testo una sola ortodossia una sola verità una sola verità e quindi però ci ricadiamo sì però era una mediazione però esotico diciamo non hanno incontrato l'esoterismo tantico che è molto più complesso o lo zen come verimo che è molto più sofisticato che lascia molto più margine alla libertà questa è come non dico una fuga dalla libertà ma un trovare se stessi in questi vincoli molto forti e poi aveva quest'ultima idea e cioè che sì è vero l'illuminazione è sul vuoto ma tutto sommato la forza dentro di noi è una forza di verità di luce quindi positiva affrontare il tema del vuoto non è facile per un fedele occidentale ecco tanto che quando poi si entra in una comunità della Sokagakai in un loro tempio hanno una sorta di tempio e di cerimonia la cerimonia principale consiste nella ripetizione del nome quel nome che abbiamo sentito Nammyo Renge Kyo ecco che cosa una ripetizione così ritmata ritmica ossessiva interminabile sembrerebbe intanto che cosa significa questa formula questa formula è l'ultimo processo di un di un itinerario meditativo quindi è un punto finale perché Nichiren stesso e la Sokagakai anche dice sì l'ideale è recitare salmodiare predicare tutto il Sutra del Loto poi e quindi capirne l'immaginario le idee e la dottrina poi se non si può due capitoli soli se invece tutto viene concentrato in una forma di meditazione che sembra semplice però in realtà è complesso un aiuto alla mente per ricostruire per vivere dentro di noi Nichiren lo scrive tu vivi tu realizzi il Sutra del Loto in te cioè liberi te stesso e la tua buddhità pronunciando il titolo del Sutra del Loto il Sutra del Loto è il titolo in Sanskrit Saddharma Kundarika Sutra e il Mio Renge Kyo è la traduzione in giapponese Namo significa sia venerato quindi loro pensano che il titolo e ci sono tutti i trattati in cui ogni parola viene sviscerata nella recitazione di questo Daimoku di questo sacro titolo c'è tutto concentrato in Sutra del Loto certo comunque è singolare che questa formula parli alla modernità che questo concentrare tutto in una formula in una celebrazione del Sutra del Loto come dire risuoni positivamente e concretamente alla modernità ma l'idea l'idea è che questa forma di meditazione faccia nascere in me la mia energia e la mia forza che non sia ancora liberata questo è un tema molto moderno questo è un tema dell'ego che si rivela e che ritorna dominante in una società come la nostra contemporanea occidentale in cui l'io è proprio al centro lei può immaginare il successo dell'amici Ren Shoshu e soprattutto della sua Karakai che crea un uomo nuovo un uomo forte un uomo deciso un uomo sicuro della sua verità che ha saputo trovare le proprie energie in se stesso con questa tecnica la tecnica non è importante è lo scopo per cui è fatto che attira e poi c'è l'esotico la differenza la pratica meditativa senta oggi in Giappone come è vista questa scuola? oggi è molto cambiata e direi che è cambiata intorno agli anni 80 che e forse la sua grandezza deve saputo rielaborare il proprio messaggio anche probabilmente grazie agli influssi della Sokakai International cioè di come il messaggio di Nichiren viene rielaborato in culture come quella americana e in occidente quindi di ritorno interessante oh sì è molto interessante per cui questa fase di intolleranza di durezza di settrismo si è decisamente diluita segno anche dei tempi perché se c'è prima c'era un utilizzo in chiave identitaria del messaggio di Nichiren una sola verità una sola identità il vero spirito giapponese è in questo oggi non ce n'è più bisogno la società giapponese è molto più aperta molto più disponibile molto più internazionalizzata non ha più paura della della propria crisi culturale per cui il messaggio diventa più aperto più complesso più articolato più dialogante su temi come la pace quindi più accogliibile non c'è dubbio su temi si confrontano la Sogarcai si confronta su temi sulla pace la giustizia sociale i valori dell'educazione in questo caso entra nella corrente delle grandi tradizioni religiose non è più una setta bene grazie molte grazie a lei ci sentiamo la settimana prossima domenica prossima una buona giornata a lei e ai nostri ascoltatori naturalmente ricordo che Francesca Levi cura il programma Antonella Borghi è stata in regia Paola Braici ha assistito per la parte tecnica Orsetta De Rossi ha letto i testi consulenza musicale questa volta è stata di Massimo Raveri che ci ha fornito anche le sonorità che accompagnano queste letture un grazie da Gabriella Caramore ricordo il nostro sito www.uomineprofeti.rai.it e il nostro indirizzo elettronico www.uomineprofeti.rai.it grazie e una buona giornata e ci sentiamo la settimana prossima